Sì, forse dobbiamo uscire di là proprio al fiore. Sì, forse dobbiamo uscire. Sì, forse dobbiamo uscire. Sì, forse dobbiamo uscire. Sì, forse dobbiamo uscire. Sì. 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 io venirei a mangiare se va a poter bene andiamo indietro dopo non mi prendi si? ah si si io sono sto por tanto non mi prendi no si io No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no.